Un brindisi al Ghiviborgue, a Pacifico Fanani, presentato ufficialmente mercoledì pomeriggio. Accanto al biondo tecnico, graditissimo ritorno, il patron Marco Remaschi, che ha spiegato i motivi della scelta e di una presentazione sdittata di un pa' di settimane. Dopo l'esperienza di Eliana, il 47enne allenatore di Castelnuovo Garfagnana, torna fortemente motivato. Le persone che ho lasciato le ho ritrovate ora in trattativa per riportarmi a Ghirizzano. Questa è una cosa fondamentale, la serietà delle persone, l'amicizia che mi lega a queste persone qui, aver condiviso dei bei momenti in passato e poi anche l'idea di andare a giocare nello stadio nuovo. Io ho lasciato la prima stagione, sono stato l'ultimo allenatore che ha giocato al Carraia e spero di rientrarci il prima possibile come nuovo allenatore in sede di Ghirizzano. Fanani è animato da mille buoni propositi, anche se è consapevole che il campionato sarà difficile e complicato. Sì, sì, è un campionato semiprofessionistico, lo conosco bene. Nulla, la società è una società che si sta consolidando in questo campionato e quindi conoscono le difficoltà, anche loro, che sanno che l'allestimento della squadra dovrà essere importante, dovranno essere inseriti giocatori importanti, abbinati a tanti giovani interessanti. Questa penso che sia la filosofia della società. Nel corso della conferenza stampa, Remaschi ha ribadito che il Ghiviborgo potrà finalmente giocare sul sintetico del rinnovato Carraia. Dopo quattro anni in cui si è girovagato sui campi di mezza provincia, questa è senza dubbio una bella notizia. La preparazione inizierà intorno al 20 luglio e il girone probabilmente sarà formato ancora da squadre toscane, Liguri ed Umbre. Sul mercato importanti partenze, Ortolini è andato al Siena e Diana al Prato, ma anche una rilevante conferma. Elia Chianese, Remaschi Docet, sarà l'allenatore in campo del nuovo Ghiviborgo.